cari amici di metalli rari benvenuti questa settimana ci tuffiamo in un tema che ci fa battere il cuore e brontolare lo stomaco la pizza è appena uscita la classifica mondiale 50 top pizza awards 2024 e preparatevi a una sorpresa perché al primo posto non troviamo un forno italiano la medaglia d'oro va a una pizza napoletana guidata da anthony mangeri nella grande mela new york city lievitazione naturale come da tradizione forno a legna che scalda l'anima e ingredienti che farebbero invidia a un vero re del gusto pomodori san marzano mozzarella di bufala dop origano selvatico di amalfi il meglio del meglio e allora cosa aspettate seguitemi in questa avventura culinaria alla scoperta della top 10 di questa classifica che fa venire l'acquolina in bocca solo a leggerla al primo posto ecco a voi anthony mangeri con la sua una pizza napoletana marinara margherita e cosacca sono i suoi assi nella manica ma occhio alla pizza del giorno preparata con ingredienti freschissimi che vi faranno sentire come al mercato al secondo posto finalmente il tricolore sventola alto diego vitaliano e la sua pizzeria napoli un nome un programma le sue pizze sono un inno alla semplicità e al gusto autentico un vero e proprio viaggio sensoriale nella tradizione napoletana quella vera quella di una volta medaglia di bronzo per francesco martucci e la sua i masanielli a caserta un nome che è garanzia di bontà se vi trovate da quelle parti non potete assolutamente perdervi la sua pizza con mortadella di bufala ricotta di bufala e pistacchi di bronte un'esplosione di sapori che vi lascerà senza parole al quarto posto vogliamo a oriente precisamente a tokyo da the pizza bar on 38th questo pizzaiolo giapponese è un vero fenomeno ha imparato l'arte della pizza napoletana direttamente da maestri italiani e il risultato è davvero sorprendente un esempio di come la passione non conosce confini al quinto posto torniamo in italia nella capitale della moda milano da confine pizza e cantina qui la pizza si fa gourmet con impasti a lunga lievitazione che farebbero invidia a un lievito madre centenario e condimenti ricercati che stuzzicano il palato e non dimentichiamoci della cantina da confine la pizza si sposa alla perfezione con una selezione di vini eccezionale al sesto posto attraversiamo la manica e ci troviamo a londra da napoli on the road un nome che è tutto un programma qui troverete tutti i classici della tradizione napoletana preparati con ingredienti freschi e genuini come se foste a napoli una tappa obbligata per chi si trova nella city e vuole gustare un pezzo di napoli a londra al settimo posto vogliamo dall'altra parte degli stati uniti a san francisco da tonis pizza napoletana le sue pizze sono famose per la loro leggerezza e digeribilità grazie all'impasto a lunga lievitazione e ingredienti di altissima qualità una pizza che non vi farà rimpiangere la dieta all'ottavo posto torniamo in italia a san bonifacio da itin un altro nome un'altra garanzia qui dovete assolutamente provare la pizza con burrata alici di cetara e pomodorini gialli del vesuglio una vera e propria delizia per il palato al nono posto torniamo a napoli da 50 calò di ciro salvo un nome una leggenda da provare assolutamente la sua marinara una vera poesia di sapori che vi ricorderà perché la semplicità è spesso la scelta migliore al decimo posto ci spostiamo nella capitale a roma da seupizza illuminati qui la parola d'ordine è innovazione provate la sua pizza cacio e pepe una vera e propria istituzione romana reinterpretata in chiave gourmet un'esperienza culinaria che vi illuminerà e con questo si conclude il nostro viaggio nella top 10 della classifica 50 top pizza awards 2024 un vero e proprio giro del mondo e del gusto a base di pizza adesso tocca a voi correte a provare la vostra pizza preferita e fatemi sapere nei commenti qual è la vostra pizzeria del cuore la sfida è aperta